musica musica oggi sei in compagnia di Christus Lod per ecco la saluto con noi youtube immagino se lo è ancora che stiamo facendo un video insieme non so se sta registrando non lo so non mai fa si sta registrando ah perfetto al parale stasparando me dei miei dei obiettivi di supporto a mano fa mi ha sparato il mio amico che basta ma no si è messo davanti si è fatto tu si è simpatico sei e molte sto rianimando tutti bello sulla mappa vedo tutti i morti eh lo so ho morto anch'io però io mi 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 alzo da solo vedo le braccia bracciusi chi sei? ah ma no era mio amico scappa 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 ma dai c'è un camperone lì sopra non lo vedo però dove? sul ponte dove camperano tutti si è in avanti un'altra è la realia ucciso no mi hai rubato ucciso cacchio no pensavo ero morto ma ero vivo no non ci credo mi hanno ammazzato uno di battle field 3 ma stunto ma basta un culo ma basta un culo così guadagnano punti no allora fai nella hard core c'era uno no prima mi sparava e mi uccideva no non ho fatto il tempo a rianimare allora prima mi sparava se così prendevo vita poi mi dava il medico poi mi uccideva e mi rianimava così per venti minuti poi a un certo punto io ho sparato in testa mi hanno pannato da server ma va a fare qui va a fare qui va a fare qui madonna c'è da qualche parte non c'è chi che sta sparando da mezzo passo di noi e non li vedo a chi ecco finito quanto durato hai visto il tempo te no no sarà due minuti neanche si infatti ma non fa niente vabbè faremo la prossima si il volum dall'f2000 sono stato acceso ma che vergogna oh 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 madonna tutti si sono messi in mezzo ne ho ammazzati due miei e sono morto da un nemico ok cols si inizia tu mi parte l'arma ci sei? quando è che entri? ero già entrato per un secondo eh vabbè entra ancora mette il soppressore di fiamme come se dice come se dice mi aspettò alucina eh he би è che bello allucina secondo me è inutile su mappe schiare si la so io faccio il solucolidon bearamnia come se è un base ma che cazzo noh a con cui ora allora ora metto la mia parma preferita lecce 2000 e non ce l'ho anzi metto l'arma più utile per i dati meccan in tecnici perché provo la shot cam perché ho perso la pazienza ragazzi è morto ancora io non ho neanche visto rientrare che sei morto una donna non prenderò il mio shot cam più forte così almeno oltre la speranza orca vacca una bella canata caso orca di quella vacca pensavo e sei entrato quanto cacchio ieri stavo scherzando ecco ti accorti accorti spera albosso dietro i dati ciro guarda posto auto pericurare ieri animati riammi tra ieri animati ma non c'è rianimato poi rianimare stupido ma è giusto scusa comunque che ti ho amm amm è sparato senza volerlo ovviamente ecco mi hanno matto per l'uomo ma va a te si all'ultimo però io non ho un po' la stessa distanza uccide un tizio merda tu usi il dead 12d dead ciucciona uso l'870 mcs insomma il dead il papà lo usi no porca di quella vacca tutto nozzo l'uomo ii ii ho visto troppo tra sto facendo schifo perchè di solito non fai così vero di solito dicono tutti così poi no di solito molto più oh mio dio che culo il nemico ha sparato di fianco a me prendendo un mio alleato ero io oh no oh no perchè perchè mi vuole male anch'io sto facendo schifo perchè stiamo facendo i video vedi sempre colpa dei video siete voi vedete gente di youtube no 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 oh ma che cacchio da questa distanza uccide un tizio e prima gli ero davanti e non lo uccido davvero? si è un po' strano io non riesco a nemmi amare gli fico gli cosi in faccia e non si rianimo anche a me è giusto anche con te ti ho spinto coi cosi in faccia e non ti sei rianimato fra un po' vengo livellato no ma tu hai fatto sette gigioni non è giusto dai dopo un po' anche tu riesci non credo grazie a tutti grazie a tutti